Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Michael McClamps Nel video precedente ho dato qualche impressione di come è iniziata la scuola dopo 7 mesi, dopo il lockdown In questo video, che sarà molto breve vorrei fare una riflessione che è da un po' di tempo che volevo fare ma non riuscivo a trovare l'occasione come inserire questo discorso nei video che di solito parlo mi tratto via dunque, io sono un cartolaio chi segue il mio canale lo sa sono sempre più o meno le stesse persone che commentano, che scrivono sono un canale praticamente tra amici perché ancora ripeto, è un canale giovane non è che lo sponsorizzi più di tanto ma che non sono uno youtuber, un blogger di professione lo faccio così per passare il tempo ma ci terrei, chiedo agli amici, alle persone di far girare questo video perché era un po' di tempo, ripeto che volevo inserire questo discorso nei video ma non riuscivo a trovare il video giusto e l'argomento giusto per inserirci questa considerazione dunque come ho detto poc'anzi io sono un cartolaio e non è in questo periodo da anni comunque specialmente non è un mestiere semplice il mio perché si lavora quasi niente praticamente ci rimetto ci rimetto a tenere il negozio perché insomma più costi che altro però il lavoro non ce n'è stabile non ce n'è rischiare di chiudere trovarmi in mezzo a una strada con una famiglia e una moglie che ha un lavoro comunque precario non mi sta bene no con ciò non ho convenienza ma tra le tante difficoltà che la mia categoria soprattutto nel settore cartotecnico sta passando ce n'è una che mi ha a far particolarmente incazzare perché si denota l'incompetenza la superficialità passatemi in termine paraocchismo nel senso col paraocchi dei vari provveditori dei vari presidi dei vari amministratori scolastici perché questo io ho la cartoleria avevamo la mia famiglia fece costruire quella casa in cui io sto nei primi anni del novecento da un'antica cascina no ed ettero in affitto fin dall'inizio la parte dei locali commerciali erano tre un'abitazione dove c'ho il bancone tutto che avete nel video vedrete con la volta a botte era un'abitazione un locale centrale che era il negozio e dietro un ulteriore locale che era un secondo negozio e poi è diventato il magazzino della cartoleria questa era storicamente tanto per farla breve oggi è unificato in un unico locale grande che ha una parte storica con la volta a botte dove c'è il bancone l'unità di vendita principale una seconda stanza rettangolare con una vetrina e la porta su che va in cortile che è un secondo pezzo del negozio e un'ulteriore stanza con un gradino rialzato dove trasmetto i miei video che è il magazzino e una volta si passava dal cortile per accedersi accedersi e ha una vetrina ha un'altra stanza rettangolare questo perché dico questo perché quando io nel 2006 feci il grave errore di accettare il compromesso propostomi da mia nonna dai miei genitori di mettermi a fare il cartolaio senza aver mai fatto nulla del genere sì ho lavorato in un supermercato ho lavorato tanti per mantenermi gli studi per quasi sei anni saltuariamente in un laboratorio di telefonia quindi stavo anche al pubblico servivo i telefoni riparati o chiedevo spiegazioni sui difetti del telefono da aggiustare quindi sapevo già trattare col pubblico sì ma non avevo idea di come si gestisse un negozio e devo dire che la mia commercialista mi ha preso per mano è bravissima la ringrazio cara però veramente preparata mia madre mi ha aiutato mio papà economicamente continua a sostenermi fin troppo ma sempre ma la difficoltà più grande del nostro lavoro è il fatto che non c'è una collaborazione con le scuole non è possibile che siamo al 14 di settembre non so se metto il video oggi o in questi giorni comunque il video l'ho girato il 14 di settembre sappiatelo ecco primo giorno di scuola non abbiamo una lista noi cartolai di che cosa vogliono le scuole ogni anno cambiano una cosa banale copri maxi dei quadernoni ogni anno cambiano i colori magari te lo chiedono a PUA e tu a PUA non ce l'hai e sta 100 persone senza foderine ma perché è questo perché non c'è il provveditore che comunque mi pare che sia provinciale perché non detta regole invece di dare autonomia alle scuole impongono direttive perché una famiglia una una signora che ha i parenti a Sesto San Giovanni a fine agosto primi di settembre è venuta con la lista della scuola perché Sesto San Giovanni sì Alessandra Novi Rigolo Tortona Voghera no perché all'interno di una stessa regione o provincia una scuola fa quel che vuole questo è sbagliato perché noi come cartolai i piccoli negozi supermercati hanno quasi sempre tutto perché è la loro politica di fornire tutto ma la nostra categoria non è considerata dalle scuole noi non esistiamo più non abbiamo più senso di esistere dobbiamo dare i libri alle elementari perché dobbiamo darli noi librai troppo difficile darlo alle scuole siccome intanto non li pagano non vengono pagati dai genitori i libri delle elementari ma noi li paghiamo e se non ce li vengono a ritirare ce li abbiamo sul gruppone il nostro guadagno sta in chi li vuole foderare ma se anche li li dà la scuola e tu li vuoi foderare vieni in libreria in cartoleria e te li fodero quindi il guadagno non sta nel fatto che venendo a prendere i libri automaticamente fanno la lista da te perché molte volte i libri arrivano un mese prima e la lista non ce l'hanno quindi non comprano nulla questo vale anche per le medie e per le superiori dove i libri vengono pagati faccio questo video perché mi sono rotto ai coglioni di lavorare male male lavorare tutto un giorno e basta due giorni e poi non fai un cazzo tutto l'anno o fai poco perché le scuole si svegliano tardi perché nominano un insegnante all'ultimo giorno questo magari prima insegnato a Firenze dove andava il quaderno di calligrafia no a quadretti da un centimetro col margine colorato di blu faccio un esempio da noi non si è mai usato non li abbiamo sta un'intera classe di 30 40 o due classi senza quaderno ma perché questo disservizio perché la scuola non informa tutti anche i supermercati ma i supermercati non è un problema perché hanno tutto perché non informa le scuole perché non dice non c'è un criterio di diversificare i prodotti quello che vendono i supermercati di scuola non lo vendono i negozi per esempio certi marchi certi problemi il Pignacento lo vendiamo solo noi i cartolai non lo possono vendere i supermercati però ti vendono che so il quaderno 100 grammi a 80 centesimi quando il minimo da noi costa un euro cioè ma è per far capire come siamo mal considerati noi cartolai piccoli negozi ecco perché vive chi ha un buon giro d'affari o può permettersi di fare una campagna a libri che a 9 non bastano 40.000 euro per fare tutti i libri e io non ce li ho una cifra del genere quindi è inutile star lì se sei piccolo sei destinato a fare il nulla lo sheva come si dice in ebraico lo sheva è nulla questo video l'ho girato perché ripeto mi stanno sulle balle certi comportamenti che persistono da anni e anni e anni perché va bene all'ultimo momento dire che compasso ci vuole posso capire le superiori posso capire le superiori ma non le elementari non le elementari non accetto che le cose basilari non le diano le elementari o l'asilo ma come fai andare a scuola i bambini e non sanno ancora il primo giorno che cosa devono portare arrivano con le liste a novembre a fine ottobre ma io non posso avere tutta la roba in casa sempre perché non so di anno in anno cosa per si i quaderni sono sempre quelli le matite le penne ma non ci vivi solo di quello un anno ti chiedono i regoli blu l'altro anno i bianchi ma se non li ho se la scuola non ci informa noi come facciamo saperlo io mi posso basare su statisticamente su quello che si è venduto negli anni ma è capitato che hanno cambiato tanti insegnanti tanti arrivano dal sud hanno criteri e modi di insegnare diversi sono anche ottime insegnanti ma magari usano quaderni che qua in Piemonte non li usiamo e dobbiamo ordinarli non ci sono non li trattano perché non vanno che so quaderno cartonato per esempio con l'elastico costano 7-8 euro l'uno non vanno ma c'è un'insegnante che vuole che tutta la classe abbia quello io ne ho magari in casa 2-3 non 30 ma se non ce lo dice la scuola noi non ci possiamo sognare queste cose ecco perché lavoro male mi scappa la voglia di fare questo lavoro perché così non sei coadiuvato spendi che so dal fornitore 2.000 euro di merce e la merce quella che hai comprato non va bene devi comprare altri 1.000 euro di merce perché quella lì non va bene non la doperano più tu ti sei basato sulle liste dei 2-3 anni precedenti cambia il preside cambia un insegnante cambia tutto ma non li nominano il 14 di settembre ai presidi li nominano al 1 settembre o a fine luglio quindi tutto il tempo di stampare una lista di metterla in rete disponibile in download per i negozi e per i genitori perché noi così io così lavoro per una persona precisa ordinata come me si trova molto in difficoltà a lavorare in questo modo non è tollerabile che al 14 di settembre ti trovi il negozio strapieno tutto il giorno 14 perché le liste le andate tutte stamattina la roba finisce perché non sai che quantità devi comprare l'anno scorso non vanno i quadernini piccoli quest'anno vogliono tutti i quadernini piccoli con gli anelli e magari in casa ne hai 20 ne servono 100 ma se tu non lo sai non compri roba che costa 3 euro l'una perché te la tieni lì l'inventario te lo fanno pagare paghi le tasse quando acquisti quando rivendi e sull'invenduto paghi l'IVA tre volte questo forse non lo sanno certi nostri buon temponi che stanno a Roma o seduti in regione poi le colpe ricadono solo esclusivamente sui vari presidenti di regione dico di sindaci non è così è uno scaricabarini che ora di finire è ora che la nostra categoria anche si faccia un po' sentire che si chieda una standardizzazione della gestione delle liste che si chieda una una corretta distribuzione dei marchi all'interno dei circuiti di vendita la GDO non deve avere gli stessi marchi che abbiamo noi cartolai altrimenti arreca un danno a noi non puoi avere ISPAC tu e ISPAC Lipper il Bennett perché questi ne hanno 200 tu se ne hai 4 o 5 ma magari non ti vanno bene o il fornitore non ti dà i colori che vuoi tu perché non sei un dealer ma sei solo un rivenditore così cioè queste cose le dico perché è ora di finirla che si lavora di merda male si incassa troppo magari un giorno e non incassi niente per una settimana poco per una settimana perché è gestita male la scuola anche a livello di liste di liste in rete la scuola deve mettere chi siamo contati necessari per la scuola unificato per tutte per tutte le classi poi al giorno specifiche per se iniziano ma intanto tu sai che quella scuola vuole il quaderno a riga a b o c o d le varie righe vuoi sai che vuole quella marca vuole lo zaino di quei colori per dire e così si lavora meglio ma la cosa banale sono i quaderni le foderine di anno in anno ti cambiano i colori sono anche ingombranti non puoi tenere delle pile alte così alte così di foderine che poi non vanno bene tieni lì per l'esame successivo è sempre quello il discorso non voglio essere monottono però è uno schifo veramente disarmante la cosa detto ciò vi saluto vi ringrazio e do appuntamento al prossimo video ciao